Sicuramente un Brindisi che aveva approcciato bene alla gara, come già è successo in passato, quei primi 20 minuti, poi aveva sopperto, aveva saputo soffrire senza rischiare tantissimo il primo tempo e trovando quel bellissimo gol di Nives. Poi nella ripresa cosa è successo? Ci sono degli episodi che poi spesso possono indirizzare le partite. Noi il primo tempo, come giustamente hai detto, abbiamo lottato, abbiamo attaccato, abbiamo concesso e abbiamo anche creato delle occasioni, abbiamo trovato il gol del vantaggio. Nel secondo tempo la partita l'abbiamo approcciata nello stesso modo, non è che è cambiato qualcosa. È cambiato che abbiamo commesso un errore che ha portato poi al gol del pareggio e sul gol del pareggio il Taranto da capolista e da squadra esperta ha continuato a spingere e noi abbiamo commesso poi altri errori. Ma sicuramente non è cambiato nulla, quindi in questa partita secondo me non si può parlare di primo tempo, secondo tempo, perché i ragazzi sono sempre gli stessi, la voglia che ci mettono è sempre la stessa, la strategia della partita è sempre la stessa. Di fronte abbiamo trovato una squadra forte che ha saputo capitalizzare le occasioni che ha avuto anche sui nostri errori. Una squadra che è passata in svantaggio nei minuti di recupero, è entrata negli spogliatoi in svantaggio e ha avuto delle difficoltà al primo tempo perché volevamo cercare di giocare su questo campo, cercare di spostare da una parte all'altra, andare a giocare tra le linee, invece l'avevamo messi in difficoltà. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, l'ingresso di Serafino ci ha dato più profondità, ci ha dato la possibilità di andare a giocare sul lungo, era questa la partita che bisognava fare. Su questo campo i ragazzi sono stati eccezionali ad adattarsi alla situazione e ad andare a vincere la partita.